Ci siamo? Immagino che sia un'analisi difficile di questa partita, però si parte sicuramente da quello che la squadra ha fatto, che credo sia tanto comunque. Mi sembra di sì, nel senso che non ho tanto da riproverare, non avevamo del ritmo, piano piano l'abbiamo preso durante la partita. Il ramarico è quel giro decisivo del 3-7 dove potevamo essere un pochettino più creativi e poi secondo me invece nel 4-7 abbiamo fatto delle belle cose, abbiamo fatto delle buone difese, anche due rimbalzi fortunati, bravi e lì non posso riproverare niente. Immagino che alla vigilia non avessi un settore preciso di cosa aspettarti, ma hai trovato più di quello che ti aspettavi? Diciamo di con questa continuità dopo il secondo set si pensavo che ci fossero più alti e bassi, che facessimo più fatica nel cambio palla e l'abbiamo fatta, però spesso i ragazzi sono usciti con delle buone soluzioni. Ma ci vorrebbe, non per questa partita, ma per la situazione attuale, ci vorrebbe non una domanda, una trasmissione. Io credo che con gli hashtag e con i posti si faccia poco, è mancata anche in questo periodo qua, in questo palavoro, l'esplorare tutti i punti di vista. Come a marzo siamo andati dietro alla massa, ci diciamo che siamo un sport differente, se siamo differenti possiamo anche fare delle cose differenti oppure pensare di fare delle cose differenti. Io credo che sia, insomma la mia visione non è, io sono sempre in minoranza, lo ero a marzo, lo ero per la partecipazione di Alessandro alle nazionali, lo sono adesso. Io credo che con un po' di creatività potevamo far sì che certe squadre potessero essere protette, perché assicuro che le attenzioni che i ragazzi hanno avuto sono state costanti da maggio, però insomma ognuno è dentro il sistema, però io credo che anche questa volta non ci sia stata annullata il valore dell'ascolto e della discussione. Grazie.